torniamo in diretta nuovamente per la seconda parte del nostro tg e focus accusano news 7 canale 234 del dc da terrestre allora il classico punto da mosca come ogni sabato che si rispetti marco bernardini buongiorno eccoci marco tutto bene sì sì qui siamo in pieni festeggiamenti si oggi per forza perché oggi è il natale moscovita no è la vigilia di natale cioè come se fosse il 24 dicembre traslata poche parole si 13 giorni di differenza ma parliamo di calendario gregoriano e giuliano cioè di calendari religiosi perfetto 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 a passare in famiglia voi ovviamente sì 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 no ma anche perché fuori ci sono beh adesso siamo a circa 15 gradi sotto zero l'altro ieri eravamo a 26 sotto zero quindi non è che uno è proprio invogliato andare fuori a festeggiare credo che non sia che non sia molto carina di fuori a livello climatico la situazione senti allora torniamo un attimo alle vicende di che ci riguardano un pochino più da vicino allora è stata un'altra settimana abbastanza particolare andiamo un attimo per per e con ordine perché partiamo intanto da dall'accusa dall'accusa secondo cui dopo parleremo anche di corea secondo cui ecco ne avevamo parlato la scorsa settimana la russia avrebbe utilizzato ci sono le prove secondo gli americani dei missili per colpire in questi o in queste ore l'ucraina dei missili nord coreani questa è l'accusa che arriva dall'altra parte dell'oceano ne hanno parlato ripeto ancora una volta la scorsa settimana ma non c'erano state queste presi posizioni addirittura adesso spuntano delle prove ecco che cosa mi vuoi dire marca e posso dire che appunto poi della corea del nord ne parliamo dopo ma che vuol dire che sono dei missili nord coreani vuol dire che la russia che produce armi a non finire non ha bisogno di armi straniere in questo senso ma che è un po un segreto di pulcinella il fatto che comunque la russia commercia anche nel settore militare industriale ma non solo in quello ovviamente con una serie di paesi come per esempio la repubblica popolare democratica di corea l'iran no la repubblica islamica iraniana e poi mille altri paesi ma voglio dire brasile cina sono tutti i paesi del brics ma anche paesi che non fanno parte del brics cioè è normale io la domanda retorica che pongo è questa ma perché che so io stati uniti italia germania francia giappone polonia repubblica cieca hanno il diritto di fornire armi tra l'altro letali vietate da tutte le convenzioni dell'onu all'ucraina sottolineo letali come per esempio le bombe a grappolo per intenderci e tutti dicono è ma l'ucraina ha diritto di difendersi e dopodiché se la russia commercia in armi con per esempio iran corea ma ripeto l'elenco sarebbe enorme invece no quello non va bene allora vuol dire che coreani iraniani e quant'altri sono dei criminali cioè ciò che è permesso a cesare non è permesso al popolino è questo il concetto capito capito benissimo il tuo il tuo punto di vista certo è che però gli attacchi in ucraina si stanno intensificando ecco stanotte ce ne sono stati altri la scorsa in settimana era stata colpita ancora una volta a kiev come mai proprio in questo momento tra la fine dell'anno e l'inizio ecco la scorsa settimana dicevamo avevamo parlato no avevamo letto anche un titolo della stampa che vedeva putin utilizzare la guerra per preparare poi la corsa alle presidenziali però detto questo come ma la russia sta diciamo acuendo la propria pressione militare su sull'ucraina proprio in questione dopo mesi in cui si c'erano stati ovviamente le schermaglie come al solito dei droni da una parte e dall'altra il conflitto che mi sembra che sul campo sia bello che stagnato marca perché non si parla sempre degli stessi centimetri di terra né più né meno però ecco adesso la russia è tornata proprio a far paura ma la risposta sarebbe molto elementare in realtà rispondo con una domanda a una domanda cosa che ovviamente non è molto carino e però in questo caso bisogna farlo per forza come mai proprio il 30 dicembre a ridosso di capodanno l'ucraina ha bombardato la città di belgorod civili inermi e appunto non è stata una scaramuccia non è che ne sono morti due tre sono morte 30 persone e ci sono ci sono centinaia di feriti ecco allora se la domanda è perché la russia adesso sta intensificando bene e sta intensificando affinché una roba del genere non sia più possibile e anche sul fatto di fare così diciamo che ci sono state delle schermaglie beh insomma chiamarle schermaglie io non direi soprattutto quando c'è questo villaggio chiama marinka che dentro alle case dei civili gli ucraini avevano piazzato tutte le rampe di lancio dei droni dei missili dei missili a grappolo eccetera e da lì continuano da mesi da mesi sottolineo a bombardare la città di donetsk che loro considerano essere città ucraina che allora voglio dire non si capisce ma adesso lasciamo perdere che ucraina non è ma voglio dire state bombardando da quella postazione i russi hanno intensificato e hanno finalmente liberato marinka e quindi da lì i missili ucraini non potranno più partire su donetsk su belgorod e compagnia bella mi sembra abbastanza logico poi c'è da fare tutto il solito discorso che i russi può piacere o non piacere ma insomma abbiamo la bellezza di questi ultimi 8 9 anni a dimostrarlo i russi non hanno mai bombardato obiettivi civili quello che invece è successo spesso e volentieri è che bombardando le infrastrutture militari e logistici e logistiche i missili russi vengano abbattuti dai droni di difesa ucraini e che siccome non sanno manco usarli come si deve i detriti poi finiscano effettivamente su popolazione civile ucraina ma un attacco deliberato da parte dei russi su strutture civili non c'è e non c'è mai stato perché non fa parte proprio della della logica dell'indole del dna russo cosa che non si può dire invece da parte ucraina e belgorod lo dimostra insomma ok 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 senti su ti volevo chiedere anche questo è stata anche la settimana di un di un annuncio da parte degli stati uniti tramite tramite gherbi con che ha ammesso che in questo momento di di armi o comunque di finanziamenti per l'ucraina probabilmente sono sono terminati qui fondamentalmente bisognerà capire fino a quando poi il congresso non darà il via libera per altri per altri aiuti proprio a chi è tra l'altro nelle stesse ore dimitri kuleba il ministro degli esteri ucraino aveva detto noi non abbiamo ulteriori piani alternativi rispetto a quello di farci aiutare dall'occidente dagli stati uniti non li abbiamo mai presi in considerazione anche perché sappiamo che se crolliamo noi in poche parole potrebbero crollare anche loro in questo è stato il sunto ci sto facendo il sunto delle dichiarazioni proprio del signore qui presente ecco la Russia ovviamente è al corrente credo sia sia al corrente Putin di tutto questo delle delle problematiche sta avendo che sta avendo Zelensky e il suo team però ecco la domanda che ti faccio è questa credi che possa sfruttarla a proprio vantaggio questa situazione la Russia vedendo un un nemico eh con le armi spuntate possiamo così definire tra virgolette naturalmente sì ma voglio dire anche questa non è una notizia è una non notizia nel senso che eh sono mesi se non a questo punto anni che la Russia di fatto che cosa dice a o si continuano a essere eh finanziati eh supportati armati dall'occidente ma prima o poi l'occidente finirà le proprie risorse beh è esattamente quello che sta succedendo quindi sta succedendo quello che peraltro era già previsto da ripeto da mesi e forse addirittura da anni eh sintetizzando verrebbe da dire con la vecchia battuta di un film eh bambole non c'è una lira il concetto è proprio questo e eh allora gli Stati Uniti poi gli Stati Uniti in realtà il complesso militare industriale statunitense che è l'unico che ci ha guadagnato un sacco di soldi su tutta questa vicenda eh però voglio dire se i soldi non ci sono più o stampi ulteriori dollari tanto basta accendere la macchinetta eh però questo poi porta inflazione lo vediamo d'altra parte quello che sta succedendo negli Stati Uniti è che la gente ha sempre cioè sta vivendo in maniera sempre più povera e dunque per quel vecchio principio russo che avevo detto un sacco di volte cioè che chi paga ordina la musica e giustamente i contribuenti dicono sì va bene noi continuiamo a dargli i soldi ma possiamo almeno sapere come vengono utilizzati perché questo è l'altro grosso problema che i soldi vanno in corruzione vanno cioè quando vedi che poi Zelensky si compra la villa non so in Spagna o a Cipro no? Dice ma un momento ma voi non ci avete una lira? Allora tu i soldi da dove li hai presi? E questo in realtà è ciò che sta succedendo ma Zelensky se ci fate caso eh Zelensky come peraltro anche Kuleba ma voglio dire come dicono a Milano ciapistes eh fondamentalmente hanno tre narrazioni per tre destinatari diversi no? Allora eh il primo è quello la narrazione che eh eh vendono svendono alla propria popolazione stiamo vincendo cioè abbiamo qualche difficoltà ma stiamo comunque vincendo e quindi ci servono ulteriori soldi la seconda narrazione è quella rivolta direttamente ai loro sponsor e dove invece dice le stiamo prendendo a tutto spiano cioè come se non avesse detto nulla alla popolazione le stiamo prendendo a tutto spiano e quindi abbiamo bisogno di soldi e la terza narrazione è quella verso l'Occidente come tale a cui di fatto che cosa dice? Siamo ottimisti sì va bene insomma la situazione è problematica ma si può risolvere basta che ci diate i soldi cioè la costante di tutte e tre le narrazioni dateci i soldi e e dopodiché ripeto i contribuenti ma anche in Europa giustamente chiedono che fine hanno fatto. Gratis e non si può fare niente tanto meno combattere. Eh beh appunto cioè voglio dire la Russia tranquillamente combatte con le proprie risorse non con le risorse altrui ma ripeto cioè perché ho sottolineato che l'unico gli unici ad averci guadagnato è il complesso militare industriale statunitense perché lo vedete che cosa sta succedendo nell'Unione Europea che che se ne dica le maggiori aziende soprattutto tedesche che che è sempre stata la locomotiva dell'Unione Europea stanno chiudendo le fabbriche e si stanno trasferendo dove negli Stati Uniti è ovvio sto parlando della Volkswagen sto parlando insomma di un sacco di di aziende ma guarda una cosa che ho letto giusto ieri a proposito della conferenza stampa del di Giorgia Meloni a proposito perdonami è arrivata pure qua allora aspetta andiamo a vedere perché ecco avevo selezionato un passaggio della conferenza stampa che riguarda proprio la guerra in Ucraina senza farla apposta non ne avevo detto nulla a a marca posso garantirlo è organico è comunque collegato il discorso esattamente allora Andrea se sei se siete d'accordo perfetto la strategia è già pronta a mandare proprio le dichiarazioni di Giorgia Meloni sull'Ucraina ma guardi le percorso il percorso la definizione della tempistica su un percorso di pace chiaramente non dipendono da me io posso dirle come secondo me si costruisce la pace in questi scenari e in parte l'ho già detto per quello che riguarda l'Ucraina differentemente da quello che sostiene chi dice che non dovremmo mandare armi all'Ucraina perché così si produce un escalation del conflitto io credo che sia l'esatto contrario l'unica possibilità che in Ucraina c'è di arrivare a un qualsiasi tavolo diciamo una qualsiasi soluzione diplomatica un qualsiasi tavolo di trattativa è mantenere equilibrio tra le frozze in campo e se noi avessimo fatto quello che ci era stato proposto da chi dice che non dobbiamo sostenere l'Ucraina noi non avremmo avuto nessuna pace avremmo avuto un'invasione quindi una guerra più vicina a casa nostra questa è la realtà dei fatti e questo è quello che noi lavoriamo per fare una guerra più vicino a casa nostra questa bene o male questo pensiero io vorrei dire proprio questa frase tra i dirigenti del dell'occidente questa è una frase che ricorre spesso visto che aveva detto pure biden mi si consenta è un'idiozia perché voglio dire questa cosa che la russia se sconfigge l'ucraina arriva più vicina all'italia ma che deve fare la russia deve invadere l'ungheria e l'austria per arrivare al confine italiano cioè non è vendibile non è credibile un'ipotesi di questo tipo fa ridere i polli e chiunque si occupi di politologia lo capisce perfettamente al di là della retorica e della propaganda di guerra ma questa è proprio una fesseria che poteva tranquillamente evitarla poteva portare altre argomentazioni tant'è le altre argomentazioni un po più serie devo dire è appunto che per arrivare alla diplomazia bisogna fornirli più armi questo fa il paio con le dichiarazioni di crosetto del ministro della difesa peraltro con le mani in pasta in tutto il complesso militare italiano ma lasciamo perdere però le dichiarazioni di crosetto di due settimane fa erano esattamente queste cioè non funziona la guerra proviamo con la diplomazia a me personalmente hanno insegnato l'esatto contrario se non funziona la diplomazia allora a quel punto si fa la guerra cioè qui c'è proprio un problema di causa effetto che che la meloni non fa altro che ripetere poi vabbè che sono dello stesso partito quindi lo posso capire però ecco questo mi sembra un argomento più serio da discutere ma questa cosa che la russia altrimenti si avvicina ai confini italiani voglio dire ma quando si dice allora i russi i cinesi i cinesi che che vogliono invadere l'italia ma fatemi capire io capisco che i cinesi peraltro anche i russi ma voglio dire soprattutto i cinesi appaiono proprio diversi no perché ci hanno gli occhi a mandorla comunisti come peraltro la corea del nord e ci fanno sempre questa narrazione io pongo solo una domanda i cinesi hanno mai invaso nella storia hanno mai invaso l'italia no hanno mai bombardato l'italia no hanno mai costruito basi militari in italia no chi è che ha fatto tutto questo in italia questi bianchi con gli occhi azzurri che stanno oltreoceano questo lo hanno fatto quindi io baderei un po più ai problemi appunto quelli reali che può avere l'italia con quante sono 150 no le le basi militari statunitensi nato in in italia questo mi sembra molto più preoccupante perché quando si parla di sovranità del paese no e i famosi sovranisti ecco allora i famosi sovranisti dovrebbero esigere la chiusura di tutte le basi militari straniere sul suolo italico questo è il concetto marca però come sono arrivate quelle le frasi della della menoni perché mi hai detto sono arrivate anche qui le le parole della menoni proprio in questione più o meno esattamente quello che più o meno quello che tu adesso hai fatto vedere in questo servizio è più o meno quello che io vi ho narrato io dico anche meno male che invece sono arrivate intanto perché così anche in russia sanno che cosa si dice in italia per bocca comunque del capo del governo è in secondo luogo perché questo è un problema che io pongo da un sacco di tempo l'italia ormai praticamente è sparita dalle cronache russe io tutti i giorni mi leggo tutti i media russi e ormai l'italia viene nominata solo per questioni sportive no per il campionato di calcio eccetera è raro trovare qualcosa ecco improvvisamente c'è un l'italiano e allora se ne parla ma è meno male che almeno io ho un po di ciccia di cui parlare perché se no veramente dovrei parlare della roma del milan dell'inter cosa a cui francamente non sono interessato senti marca cambiamo abbiamo gli ultimi cinque minuti cambiamo un attimo argomento perché tornano le tensioni che torna essere molto teso la la in corea con le nuove provocazioni da parte di kim che ha lanciato una serie di missili in alcune isole della sud corea che ovviamente ha subito evacuato la zona che è successo non hanno mandato nella zona della corea del sud questo è un punto molto importante si parla di provocazioni di kim e di nuovo comunque la si pensi sulla corea del nord e su kim però io vorrei ricordare allora intanto come mai esistono le due coree perché gli americani gli inglesi la divisione hanno cercato di creare lì il loro avamposto in chiave antisovietica non ci sono riusciti e allora a quel punto comunque il territorio che avevano preso fino a quel momento se lo sono preso e ne hanno fatto la corea del sud e viceversa la corea del nord che non è diventato un protettorato dell'unione sovietica però è chiaro che aveva ottimi rapporti con l'unione sovietica e se fatta il suo stato che non è piccolo è perché guarda che hanno più abitanti dell'italia mi pare che siano sugli 80 milioni o forse 60 non lo so ma adesso questo non ha nessuna importanza davvero il fatto è che quindi c'è questo famoso trentottesimo parallelo esattamente dove passa il confine tra le due coree bene di nuovo un po come per il discorso del della fornitura di armi fatemi capire ma perché la corea del nord nel suo territorio badando bene di non oltrepassare quel trentottesimo parallelo può non può fare le sue esercitazioni militari e contemporaneamente sotto al trentottesimo parallelo la corea del sud e non è neanche la prima volta perché lo sta facendo da anni insieme agli stati uniti e di nuovo guarda caso alla corona britannica fanno le loro esercitazioni militari anche loro facendo grande attenzione a non superare il trentottesimo parallelo e voglio dire la risposta più semplice è che ciascuno a casa sua fa quello che gli pare però insomma poi in realtà però perdonami marca e la c'è stata pure il l'ordine di evacuazione delle due isole sud coreane quindi non credo che la corea del sud può evacuare chi gli pare i missili nord coreani in corea del sud non ci sono entrati non ci sono arrivati dopodiché se per fare un po di propaganda di guerra loro hanno evacuato la loro gente va bene ma sono affari loro però perdonami c'è stato però anche il la presa di posizione abbastanza forte della cina che poi tra l'altro è il garante no di quella zona lì ed è anche si può dire il quella più vicina quella più prossima alla corea se se viene meno il l'ausilio di chi di dixi kim ovviamente potrebbe capitolare da un secondo all'altro però ecco pechino ha fatto ha fatto ha chiesto ha esortato tutti di di rimanere un pochino più calmi di continuare con con la strada sulla strada della diplomazia proprio per evitare che si possano ripetere i bisogni come quello di ieri di ieri quindi se c'è stata anche la cina a parlarne e bada bene infatti vedi che dice cerchiamo di rimanere sulla diplomazia perché se no c'è la guerra cioè l'esatto contrario di quello che dice eh crosetto a proposito dell'ucraina no già questo è molto indicativo ma dopo di che ma scusate ma la cina che deve dire è certo che dice o ragazzi però cerchiamo di fare qualcosa in maniera che questo poi non sfoci in un conflitto eh tra tra le due coree perché se no poi è chiaro che la cina secondo voi con chi si mette ma certo che si mette con la corea del nord mica vorrete che si metta con la corea del sud e stessa cosa anche la russia eh ma ma io lo stesso principio lo applicherei anche a taiwan no cioè la Cina non ha nessuna intenzione di invadere taiwan però è chiaro che se gli americani non la smettono con le loro provocazioni prima o poi qualcosa succede speriamo di no però voglio dire ecco ciascuno si assuma le proprie di responsabilità marca abbiamo concluso per oggi noi ci vediamo sabato prossimo come al solito va bene adesso oggi siamo in alla vigilia di natale la prossima settimana saremo alla vigilia del vecchio anno nuovo perfetto quindi eh tutto sarà strato di due settimane quindi sarà comunque festa per te per te sono stato praticamente un mese di festa ah per me guarda io faccio anche il capodanno cinese che sarà il 10 febbraio l'importante è fare bisboccia marca grazie mille a sabato a presto grazie mille a marca bernardini che come al solito interviene ogni sabato qui con noi da Mosca per fare il eh classico punto della situazione sulla guerra in Ucraina e non solo io vi ringrazio per averci seguito fin qui vi eh esorto a rimanere sui nostri canali sul nostro canale perché sta per arrivare una nuova edizione del nostro telegiornale Grazie a tutti